Sei un titolare di un'attività o in procinto di avviare il tuo business? Sei un professionista che desidera perfezionarsi? Sono qui per aiutarti. La chiave del successo è pianificare bene ogni passo da fare. Dal menù alla ricetta personalizzata, dalla formazione del personale alla scelta di ingredienti stagionali, dalla selezione di forni a quella degli strumenti. Michele in Cucina nasce con l'obiettivo di seguirti passo passo per comprendere i trucchi del mestiere, affinché il grande mondo di pane, pizza e lievitati non abbia più segreti e il tuo locale diventi un locale di successo. Contattami per consulenza o corsi privati per affiancarti nell'avviamento della tua attività o per seguire il tuo personale in un percorso di crescita continua, al fine di poter offrire un prodotto sempre aggiornato e di qualità per incrementare i profitti e diventare un riferimento di settore. Contattami e il tuo locale sarà sempre pieno di clienti soddisfatti perché in fondo per un'attività di successo basta apprendere e condividere l'arte della pizza fatta con amore.